Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 coda in uscita a Firenze Sud per traffico intenso, in A11 coda tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola in direzione Firenze, sulla Fepili coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e Rallacciamento 1 Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra Stagno e Pisa in entrambe le direzioni. Per i lavori alla linea 2 della tramvia fino alle 24 di stasera resterà chiuso il ponte Mariti, percorsi alternativi segnalati in loco e visibili attraverso i nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Un buon viaggio! Un buon viaggio!